Coltivavano marijuana in uno stabile occupato abusivamente, la polizia arresta due uomini. Partono domani le vaccinazioni per gli over 80 alla celletta, le marche in zona gialla anche la prossima settimana. Tamponi rapidi in farmacia, il servizio al via da lunedì. Obiettivi raggiunti e strategie per gli investimenti futuri, il punto di marche multiservizi. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre e bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale. Subito in apertura la cronaca con un'operazione della squadra volante della Questura di Pesaro che ha portato all'arresto di due uomini che coltivavano illegalmente marijuana in un casolare di campagna in strada dell'Acquabona occupato abusivamente. L'operazione è scattata grazie ad una segnalazione nel pomeriggio di mercoledì. Una volta entrati nello stabile, gli agenti hanno scoperto al piano superiore tre serre per la coltivazione di cannabis, dotate di sistemi di irrigazione, illuminazione e areazione. Due i soggetti responsabili, un 54enne pesarese già conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari e un quarantenne residente a Gradara, che aveva tentato di nascondersi per non farsi individuare durante la perlustrazione dei locali da parte degli agenti. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione quotidiana in questura per il 54enne, a cui è stata sospesa l'erogazione del reddito di cittadinanza, mentre al quarantenne sono stati confermati gli arresti domiciliari. L'attività ha consentito il sequestro di 76 piante di marijuana di varie misure, di 51 germogli, due bilancini elettronici e altro materiale per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio. Sono stati sequestrati anche 245 grammi di marijuana già pronta per la vendita. E partirà domani la campagna di vaccinazione anti-covid per tutti i cittadini over 80 della Regione Marche e della provincia pesarese. Questa mattina siamo stati nel quartiere Celletta a vedere gli ultimi interventi di preparazione della sede dove verranno somministrate le dosi. Vediamo. Partirà domani anche a Pesaro la campagna di vaccinazione riservata ai cittadini over 80. Ci troviamo nel quartiere Celletta e alle mie spalle il centro socio-culturale Monaldi, di sede in cui verranno effettuati i vaccini. Diversi i locali predisposti all'interno della struttura, partendo dall'area di accettazione in cui verrà raccolta la modulistica compilata dagli utenti e che si invita a scaricare preventivamente dal sito internet dell'Asur Marche. Di seguito la sala con le otto postazioni per la somministrazione del vaccino, adiacente alla quale è collocata la zona di attesa dove gli over 80 dovranno sostare circa un quarto d'ora dopo l'inoculazione del siero. Saranno più di 2.500 gli utenti a ricevere la prima dose Pfizer al centro Monaldi nei primi quattro giorni di somministrazioni dedicati agli over 80. Abbiamo individuato questo luogo, che è un luogo conosciuto da chi non è più giovanissimo. Con il servizio di viabilità e la polizia locale abbiamo organizzato una nuova viabilità temporanea per questi giorni con il senso unico qui in via del cinema per dar modo alle auto di utilizzare non solo i parcheggi ma anche il lato destro della carreggiata. Ci auguriamo che l'adesione come sembra sia importante, che ci sia meno confusione possibile anche se visto già in questi due o tre giorni di allestimento molti anziani vengono a vedere dove sarà, chiedono informazioni e la modulistica da compilare non è semplicissima, ci sono a disposizione anche i volontari della protezione civile per compilarla, si sono scesi in campo anche le farmacie comunali per raccogliere le adesioni a questa campagna vaccinale, è il primo passo importante per riuscire a battere in maniera definitiva questo virus. La prima ipotesi della regione era Vitrifrigorena, ovviamente anche quello è un contenitore importante, però magari le partite, gli allenamenti, le scalinate che non sono semplicissime, magari arrivavi, c'è l'ascensore, chiaro ci sono tutti i servizi per garantire anche a chi ha meno mobilità l'accesso nella struttura, però un ascensore, magari un giro un po' troppo lungo e un contenitore forse esagerato, invece qua anche se un pochino più piccolo, però ha tutti i servizi che l'Asur ci ha richiesto. Questo è il primo passo, poi da qui davanti ci saranno altre situazioni dove si farà una vaccinazione di massa e il Comune è sempre a disposizione per trovare altri luoghi. Da parte di Ancescao che gestisce, in qualche modo, che coordina i centri sociali c'è già arrivata la chiamata in merito alla loro disponibilità per mettere a disposizione altri centri sociali per fare la stessa operazione. Sulla partenza della nuova fase di vaccinazioni è intervenuto anche l'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini, affermando che ad oggi sono quasi 80.000 le prenotazioni effettuate a livello regionale. Per i soggetti che non si saranno prenotati, ha proseguito l'assessore, le vaccinazioni saranno effettuate nei distretti e negli ambulatori dei medici di medicina generale, mentre solo per chi ha l'assistenza domiciliare la vaccinazione avverrà a domicilio. Sui numeri dei punti predisposti per la somministrazione del vaccino, nell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa marchigiana è stata presentata un'interrogazione che ha visto come prima firmataria la consigliera PD Micaela Vitri, sostenuta poi da altri consiglieri democratici, volta a chiedere un'implementazione del numero delle strutture dedicate alla campagna, per agevolare gli spostamenti degli anziani residenti lontano dai grandi centri. Avere solo tre punti vaccinazione per gli ultraottantenni a Pesaro, Fano, Urbino e in tutta la provincia mi sembra inconcepibile. Per questo in consiglio regionale ho presentato un'interrogazione chiedendo all'assessore di aumentare la rete, utilizzando ad esempio la Casa della Salute di Vallefoglia e gli ospedali di Polo. Purtroppo però la risposta è stata inspiegabilmente negativa. Ciò significa che chi abita da Montellabate fino a Tavuglia dovrà venire a Pesaro per il vaccino. Ed è arrivata nel pomeriggio la comunicazione ufficiale per l'assegnazione del colore e quindi della fascia di rischio riservata alla Regione Marche. Attraverso la sua pagina Facebook il governatore Francesco Acquaroli ha annunciato che anche la prossima settimana le Marche rimarranno in zona gialla. Il Presidente ha invitato in ogni caso alla massima attenzione e al rispetto delle regole per prevenire il contagio. E ora la pagina degli aggiornamenti Covid sul nostro territorio. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.145 tamponi, 3.127 nel percorso nuove diagnosi, di cui 1.082 nello screening con percorso antigenico e 2.018 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 15,6%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 488, con poco meno della metà dei casi registrati nella provincia di Ancona e 103 in quella pesarese. Alto il numero dei decessi, 17 quelli segnalati nella serata di ieri dal Servizio Sanità della Regione. Nessuna delle vittime era residente nella provincia pesarese. E da lunedì sarà possibile eseguire i tamponi antigenici rapidi nelle farmacie comunali e private. Già da oggi però è attivo il sistema di prenotazione del test nelle nuove farmacie comunali di Pesaro e in quella di Gabicce Mare. Vediamo i dettagli in questo prossimo servizio. Grazie all'accordo raggiunto tra Regione, Assofarm e Federpharma, a partire da lunedì nelle farmacie comunali e private si potranno effettuare i tamponi rapidi. Dopo i sierologici rapidi, all'interno delle farmacie arriva dunque un nuovo strumento utile per la ricerca e la prevenzione al Covid-19. Nelle nuove farmacie comunali di Pesaro e in quella di Gabicce Mare è possibile già da oggi prenotare il test, che però dovrà essere svolto in autonomia dall'utente sotto la supervisione del farmacista. Il tampone, il cui esito arriverà pochi minuti dopo averlo effettuato, è rivolto a tutti i soggetti asintomatici che negli ultimi giorni non hanno avuto contatti stretti con persone positive al Covid. Da oggi è possibile prenotare in tutte le farmacie comunali gestite da Aspes, Pesaro e Gabicce Mare, anche il tampone antigenico rapido. Come è possibile prenotarlo? È possibile prenotarlo attraverso il numero 0721 37 24 73, è un numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Si tratta quindi di un autotest dove il cittadino farà il tampone in autonomia, sempre ovviamente sotto la supervisione del farmacista. Il test è costituito da un tampone che sarebbe un batuffolo di cotone un po' più lungo, verrà inserito all'interno della cavità nasale circa 5-6 cm all'interno della cavità, dovrà essere una volta in situ il paziente dovrà ruotare questo test in modo tale da prelevare il più possibile materiale biologico. Il tampone verrà messo all'interno della provettina con un reagente, verrà fatto reagire per qualche secondo e dopo verrà inserito all'interno di una piastra due o tre gocce di questo reagente in modo tale da andare a vedere la positività o la negatività di questo tampone. Si tratta quindi di un tampone qualitativo, quindi andremo a vedere la positività o la negatività del virus. È molto importante questa iniziativa in modo tale da andare a creare uno screening più completo per la cittadinanza in modo molto rapido, riusciamo a vedere quindi la diffusione del virus. È importante quindi andare a scoprire eventuali asintomatici che si nascondono all'interno di amici e familiari. E nel momento in cui il tampone rapido dovesse risultare positivo? Nel momento in cui il tampone risultasse positivo il collega farmacista avviserà quindi l'Asur di competenza che nel giro di qualche giorno effettuerà il tampone molecolare. Nell'arco di questo lasso di tempo è strettamente consigliato al cittadino e al paziente un isolamento domiciliare. Qual è il costo? Il costo è di 18 euro, quindi un costo molto calmierato per permettere quindi uno screening di massa. E nelle farmacie è attivo anche il servizio di prenotazione per il vaccino riservato in questo momento alle persone over 80? Sì, quindi c'è una doppia possibilità. Il cittadino può o chiamare il numero verde 800 0099 oppure recarsi qui in farmacia e il farmacista assisterà alla prenotazione del vaccino. E si è svolta questa mattina una conferenza stampa indetta da Marche Multiservizi per illustrare obiettivi e risultati raggiunti dall'azienda. 240 milioni la cifra degli investimenti effettuati dal 2008 ad oggi a cui si andranno ad aggiungere i 130 dei prossimi 4 anni in un'ottica di lavoro che pone al centro la sostenibilità anche per la ripartenza post-Covid. Vediamo il servizio. Ambiente, innovazione e territorio. Tre parole che inquadrano l'operato passato, presente e futuro di Marche Multiservizi. Futuro nel quale viene focalizzato ancora di più il tema della sostenibilità, chiave fondamentale per progettare la ripartenza del post-Covid. Diversi gli obiettivi in programma e quelli già raggiunti dall'azienda, come spiega l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tibiroli. Per noi il nostro lavoro è ottimizzare l'uso dell'energia, ridurlo ovviamente quindi ottimizzarlo. In questo per esempio abbiamo rinnovato tutto il parco illuminante di Pesaro, ovviamente riducendo moltissimo quelli che sono i consumi energetici, quindi contribuendo anche qua alla decarbonizzazione e quindi abbiamo ovviamente la necessità di usare al meglio anche tutte le risorse. Abbiamo l'ambizione ma credo anche il dovere di essere un supporto fondamentale alle amministrazioni comunali, alla provincia, alla regione, quindi agli enti locali, tutti nell'andare a ridisegnare e quindi rigenerare anche un nuovo modello di società. Abbiamo approvato recentemente un piano industriale che ci vede impegnati ultimamente nei prossimi 4 anni con altri 130 milioni di euro di investimenti sul territorio e quindi sono tutte infrastrutture che vanno a beneficio della collettività e del territorio stesso. Sono importanti anche i numeri, le percentuali per quanto riguarda la depurazione nel Comune di Pesaro e anche i numeri relativi agli obiettivi già raggiunti da Marche Multiservizi quando si parla di Europa? Sì, direi che oltre alla depurazione abbiamo fatto dei passi in avanti dal punto di vista anche della raccolta differenziata e dal punto di vista dei rifiuti. Diciamo che l'Europa fissava al 55% il tasso di riciclo nel 2025, noi abbiamo già superato questo obiettivo nel 2020, quindi siamo molto avanti, così come il tasso di riciclo degli imballaggi fissava al 70% nel 2030, anche questo noi l'abbiamo già superato nel 2020, quindi stiamo lavorando bene in questa direzione. Io vorrei ricordare che quando sono arrivato qua qualcuno mi ha tacciato come un antiambientalista, sono arrivato che la raccolta differenziata all'epoca era il 23%, oggi siamo abbondantemente sopra il 70% non solo nella città di Pesaro ma in tutto il territorio gestito, quindi come bacino e credo che anche sulla depurazione e i contributi ambientali siano notevoli. Presente alla conferenza stampa, alla sua prima uscita ufficiale da presidente di Marche Multiservizi, Daniele Tagliolini. Sta andando bene, è un ruolo importante che tratta tematiche ambientali e tratta di territorio, quindi sono tematiche a cui ho sempre dato grande importanza nelle mie passate esperienze amministrative in questo nuovo ruolo, penso di poter portare diciamo così le tematiche ambientali e soprattutto il rapporto con il territorio al centro del mio percorso. Penso che le tematiche ambientali, così che abbiamo visto anche nella pianificazione europea inserite insieme alle Next Generation EU, possono rappresentare da un punto di vista sia ambientale che per le nuove generazioni un punto cardine, un punto di riferimento per le strategie future. In questo territorio vogliamo essere autosufficienti, anche autonomi, interpretare questi nuovi modelli con l'orgoglio di dare risposte concrete alla cittadinanza e alle amministrazioni locali. Ed è stato presentato questa mattina il lavoro di collaborazione tra la Camera di Commercio delle Marche e il sistema universitario regionale, che ha preso il titolo di Quale visione per quali territori. Obiettivo dell'analisi è l'evidenziare le principali evoluzioni socio-economiche della regione per lo sviluppo futuro. Presenta la conferenza, oltre alla giunta camerale al presidente Sabatini, i quattro rettori degli Atenei marchigiani, il governatore della regione Francesco Acquaroli e il vice Mirko Carloni. La quarta edizione del Paniere delle Eccellenze e il progetto solidale della Fondazione Ant consentirà di offrire 733 giornate di assistenza specialistica gratuita domiciliare alle persone malate di tumore nelle Marche. La Fondazione ha rendicontato e diffuso tutti i numeri dell'iniziativa legata alle festività natalizie, che quest'anno ha visto crescere sia il numero delle aziende coinvolte, sia il totale dei prodotti di eccellenza regalati per confezionare i cestini. Grazie al progetto è stata raccolta la somma di 22 mila euro. E in questo tempo di pandemia ci sono anche belle notizie, come quella che riguarda la signora Mafalda Pedini, che proprio oggi compie la bellezza di 100 anni, che vediamo nella foto insieme al sindaco Ricci, che proprio questa mattina l'ha omaggiata con un mazzo di fiori. A quelli di amici e familiari si aggiungono anche quindi gli auguri di tutta la nostra redazione. E questo pomeriggio è stata chiusa la strada provinciale 32 Pesaro-Mombaroccio tra Ponte Valle e il Trebbio di Candelara, a causa di alcune piante pericolanti. Sul posto è intervenuta la polizia provinciale, quella locale, il pronto intervento e la viabilità della provincia, più i vigili del fuoco impegnati nell'intervento. E le guide turistiche residenti a Pesaro, in occasione della giornata internazionale della guida turistica che si svolge ogni anno in tutto il mondo il 21 febbraio, proporranno questa domenica un'iniziativa dal titolo In Itinere. Cinque brevi itinerari tematici, ognuno condotto da una guida diversa, in staffetta attraverso i luoghi storici della città. Ce ne parla in questa prossima intervista una delle guide protagoniste del progetto, Patrizia Guzzi. Non sarà solo una guida, ma ci saranno ben cinque guide che accompagneranno i visitatori. In questo caso i visitatori saranno i pesaresi, visto che i turisti non ci sono, non si viaggia e quindi noi abbiamo pensato di dedicare il nostro lavoro, la nostra professionalità, di metterla a disposizione dei cittadini. Quindi questo è un modo anche per reinventarsi, per continuare a lavorare, per condividere con i pesaresi il nostro sapere. Anche le curiosità che mostrano spesso i turisti quando vengono a Pesaro e vedono i nostri monumenti, noi vorremmo condividerli con chi vive a Pesaro. Quindi ci mettiamo a disposizione dei cittadini per fare queste visite e questa giornata appunto noi la prendiamo proprio come occasione, visto che si celebra la giornata della guida turistica a livello mondiale e anche per far conoscere questa professione che spesso non viene confusa, non la si conosce molto bene e quindi noi vorremmo proprio presentarla, come si diventa guide, quali sono le difficoltà che incontriamo. Siamo lavoratori autonomi quindi difficoltà ne abbiamo tante. Quali saranno le tappe quindi della giornata? Quindi saranno cinque tappe, sono tour tematici che ciascuna di noi svolgerà nel centro cittadino, ognuna di noi quindi racconterà un pezzo di storia di Pesaro o anche di personaggi famosi come Rossini di Pesaro e saremo noi ad accompagnarli, quindi non saranno mai lasciati soli i visitatori perché proprio sarà una staffetta. quindi questo si svolgerà domenica mattina alle 10 e saremo tutte pronte lì alla grande sfera di Annaldo Pomodoro in piazzale della libertà ad accogliere i cittadini pesaresi. Per partecipare com'è possibile? Allora c'è un numero di telefono che noi abbiamo pubblicizzato, Silvia raccoglierà le adesioni, è una di noi, siamo cinque guide, si prenota la visita, ci si può presentare anche lì direttamente ma è meglio prenotarsi perché poi bisogna anche rispettare tutte le leggi adesso vigenti anti-covid, si paga un biglietto simbolico diciamo così e poi si inizia. E ora parliamo della presentazione della seconda edizione dell'itinerario romantico, il progetto di valorizzazione del territorio a cura di Confcommercio che si è tenuta a Sasso Corvara Auditore, comune che da quest'anno è entrato a far parte dell'iniziativa. È stata presentata la seconda edizione dell'itinerario romantico. Tra le novità del percorso di promozioni turistica del territorio, targato Confcommercio Pesaro e Urbino nell'ambito del progetto itinerario della bellezza, l'ingresso nella rete dei comuni coinvolti di Sasso Corvara Auditore, che ha ospitato la presentazione del secondo anno di attività dell'iniziativa. Abbiamo introdotto sia il comune di Sasso Corvara Auditore con le reliquie di San Valentino che sono a Sasso Corvara e con Auditore, il municipio di Auditore che ha questa vista straordinaria sulle colline del Monte Feltro. L'itinerario romantico mette insieme il comune di Gradara, Gabice Mare, Fossombrone, Cagli e adesso Sasso Corvara Auditore. In ognuno di questi centri c'è un qualcosa di particolare che rimanda a storie d'amore. Cagli è una bellissima storia avvenuta nell'Ottocento tra una nobile donna e un medico condotto che si innamorano e quindi c'è tutta una storia d'amore che raccontiamo in questa guida insieme alle bellezze della città. Fossombrone è una storia molto nota che è la storia d'amore di questa coppia Guido Baldo da Monte Feltro e sua moglie Elisabetta Gonzaga e poi Sasso Corvaro per Enrico di San Valentino. Gradara, lo sappiamo tutti, la storia d'amore di Paolo e Francesca cantata da Dante nella Divina Commedia. Gabice Mare perché lo riteniamo un luogo romantico, un luogo simbolo per una coppia, per marito e moglie, per chi vuole rinverdire una storia d'amore ma anche per due fidanzati che possono visitare questa località balneare ma che è ricca di luoghi ambientalmente molto interessanti. Questo prodotto noi lo veicoliamo tramite le fiere del turismo in Italia e all'estero, tramite gli uffici di informazione turistica, tramite il lavoro che svolgiamo con il nostro tour operator Riviera Encoming e quindi indirizzato a quelle agenzie di viaggio, molte agenzie di viaggio in Italia che hanno nei propri programmi visite a luoghi dell'amore, a luoghi romantici. Quindi è un nuovo progetto che si mette in rete con gli altri che abbiamo realizzato. Il progetto principe è l'itinerario della bellezza, come sapete che giunge al quarto anno con un aumento del numero dei comuni che partecipano. Abbiamo realizzato l'itinerario archeologico, poi pochi mesi fa abbiamo presentato l'itinerario delle rocche di Francesco di Giorgio Martini e usciremo a breve con un altro itinerario che è quello dei luoghi del silenzio e della fede, ma sono già iniziate anche le registrazioni per l'itinerario musicale. È un prodotto sicuramente ancora più sublime, ancora più interiore, perché va a far riscoprire comunque il sentimento, il sentimento profondo nella scoperta poi della bellezza della natura. Quindi è diciamo proprio un incentivo a riscoprire il sentimento nei vari borghi, nelle varie cittadine, anche se vuoi un pochettino nascoste, ma che vengono scoperte con proprio l'interiorità, il sentimento del romanticismo. Romanticismo che credo in questo momento sia un po' fondamentale per cercare di sognare, sognare soprattutto in questo momento così difficile della pandemia, dalla quale speriamo di riuscire ad uscire, quindi vedere proprio questa luce, questa scoperta, per tornare ad essere anche più interiori, a ricreare un attimo di più il gruppo, il sentimento. Come amministrazione abbiamo voluto aderire a questo bellissimo progetto, perché abbiamo visto che negli altri comuni, da dove si erano partiti anni fa, il progetto è funzionato, perché c'è stato un incremento di turismo, di richieste, quindi per noi era importante ed è importante promuovere i nostri territori affidandoci a delle mani esperte. Vi invito a venire qui in auditore, fare il percorso all'interno del centro storico e arriverete alla Torre Civica, da dove si apre una visione a 360 gradi che va dal mare all'entroterra, agli appennini. Sono questi paesaggi che ci donano un secondo romanticismo, quel romanticismo che nasce proprio dal rapporto che dobbiamo avere e la pandemia ci ha insegnato con la nostra terra, quindi questa terra che è capace di renderci ancora delle emozioni. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ricordiamo gli appuntamenti su Rossini TV a partire da questa sera, alle 20.30 sarà protagonista lo sport Little Service Pesor affronterà infatti un nuovo match contro la signor prestito CMB, potrete seguire questo nuovo match che vede protagonista Little Service in diretta su Rossini TV questa sera alle 20.30. E poi l'informazione torna domani mattina puntuale alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini, alla conduzione ci sarà Marco Cadeddu. In occasione dell'inizio della settimana rossignana saranno due gli eventi che potrete seguire questa domenica su Rossini TV alle ore 17, bravo bravissimo Rossini opera test, e poi a seguire alle 17.15 giochino qua giochino là, andar per fiabe al profumo di Rossini, storie di Rossini bambino. Quindi per l'inizio della settimana rossegnana questi due appuntamenti che andranno in onda su Rossini TV domenica 21 febbraio alle 17 e alle 17.15. E poi domenica sera una nuova puntata di Wine and Luxury, gli ospiti saranno Alessandro Candela e Laura Vaccari, titolari della taberna Gemmaria, Hotel Lorenzi, esperto enogastronomico, Marco Medori che è il presidente della fondazione italiana Sommelier, e infine Enrico Recanati che è lo chef del ristorante Andreina. Wine and Luxury quindi nuova puntata domenica su Rossini TV alle 20.30. E sempre domenica un altro importante appuntamento su Rossini TV. Alle 21.15 andrà infatti in onda un dibattito organizzato da AIL che tratterà il tema dei rischi del Covid in riferimento alla leucemia. Tanti gli ospiti tra cui Alessandro Cecchi Paone, il presidente della sezione pesarese dell'AIL Massimo Sierra, il dottor Giuseppe Visani e poi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Quindi questo importante appuntamento lo potrete seguire su Rossini TV domenica 21 febbraio alle 21.15. Grazie per essere stati in nostra compagnia anche in questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.